Presidente, queste sono iniziative che servono a rivitalizzare il porto di Giulianova, a creare in pratica un luogo che abbia un ascendente, un significato legato al turismo. Sì, ma lo sforzo che stiamo cercando di compiere in realtà è anche quello di far vedere come il porto sia il frutto di un grande territorio che ha alle spalle. Quindi non è una infrastruttura a sé stante che vive di una vita propria, ma è sempre più l'espressione delle possibilità, opportunità, delle economie che si muovono in un territorio più vasto. E quindi la festa ha questo significato e sottolinea questo grande legame con tutto il territorio. Questo, il porto di Giulianova, è stato sempre considerato non solo il porto della provincia di Teramo ma un porto importante per l'Abruzzo. Ma sì, perché intanto devo dire che noi abbiamo utenti da buona parte dell'Abruzzo, anche dalla provincia dell'Aquila e non solo, ma anche da fuori regione. Ha una caratteristica straordinaria, è perfettamente inserita nel tessuto urbano della città, ne è una parte integrante, un continuum, passeggiata sul porto di Giulianova, equivale a passeggiata nel centro di Giulianova e quindi ha una fortissima valenza. C'è però un aspetto che lei sta cercando di affrontare e di risolvere soprattutto ed è legato al nuovo molo, il molo Nord, lavori incompiuti. Insomma qualcosa però si sta muovendo. Sì, è purtroppo un lavoro durissimo, complicato, che io ovviamente ho trovato e rispetto al quale bisogna dire che l'ente porto, non in questa gestione, anche nella precedente, non c'entra assolutamente nulla. Noi siamo fautori e fattori di stimolo perché le istituzioni che hanno in carico questo tipo di problema lo chiudano, lo risolvono definitivamente. E credo di avere in serbo qualche altra buona sorpresa fattiva, oltre ad aver dato il piano regolatore al porto di Giulianova, adesso mi risparmio gli annunci perché non sono molto favorevole agli annunci, parlerò con i fatti.